L'ho sentito? Lei è studente? Io no, no, ho spesso, ho spesso. E di che cosa si occupa, eh? Di niente al momento. Ma che ci facevi lasciare con quel vecchio? Lo porto a spesso, mi danno 30 euro al loro. Ma almeno pagherai i buffi. La raggi? Come ti arrangi? Spacci. Non riesci più a distinguere cosa va bene e cosa va male, perché è l'altime, fa così. Ma che si attacca? Mai sentito. Mai sentito. Mai sentito? Il tempo è molto importante. Ho metto un sacco di brevi, ho scritto un sacco di libri. Ho come un Dijon. Ma che se sente male? Dio. No. Guarda, l'è sempre mancata molto la compagnia maschile. Solo è solo davanti al portiere in gold! Abbiamo mancato! Tutto a posto? Le sono obbligato. Non ho capito. Grazie. Ah, è come. Lei non ha mai scritto poesie? No, io non... Si scriva quando non si sa dove mettere l'amore. Se ti porti un argabio, te ce lascio. Peggio di qua un po' adesso. Io ci ho pensato. Voglio tornare lassù. Ma lassù dov'è? Ma dobbiamo fare in fretta. Non c'è più tempo. Ma non capisco perché non me ne hai parlato. Tutto quello che vuoi, e fu quello il saluto. Tutto quello che voglio, alla fine, l'ho avuto. Giorgio, scusa. È vero che Alessandro ti sta simpatico? Chi è Alessandro? No, ma fai, lo vedi. No, ma di più. No, ma notами. N coverti amore.